World Agility Open 2014 Una location d'eccezione, Jetour Un villaggio turistico affacciato sul mare quello che ha ospitato a Lignano Sabbiadoro dal 16 al 18 maggio 2014 il World Agility Open Una competizione straordinaria Una gara di livello mondiale che ha visto presenti 394 iscritti da 32 paesi Wow! Le squadre nazionali, portando con orgoglio la propria bandiera sulle divise e nel cuore si sono sfidate nelle varie specialità di agenti la propria bandiera sulle la propria bandiera sulle Speed Stakes Gamblers Snookers Un fine settimana indimenticabile Un'opportunità per unire allo sport anche tanti momenti conviviali e di relax Wow! Grande il successo di stampa e media a corsi numerosi a Lignano E per i migliori atleti, il migliore allenatore con il team nazionale guidato da Massimo Perla E il miglior nutrimento grazie allo sponsor principale dell'evento Royal Canin Che da sempre ha l'obiettivo di favorire il benessere dei nostri cani Offrendo le soluzioni nutrizionali più adatte a soddisfare le loro reali necessità Wow! Come? Non c'eravate? Non esitate a registrarvi sul sito animalnews.tv Per ottenere gratuitamente la password e rivedere lo streaming di questo imperdibile campionato mondiale World Agility Open 2014 Wow! World Agility Open 2014